andiamo via libera per volare il semaforo blu del duo Antonello Ghezzi è qui al museo Davia Bargellini di Bologna Grazie a tutti e i semafori blu di Antonello Ghezzi sono pure a Palazzo D'Accursio un progetto di Antonello Ghezzi in omaggio a Gianni Rodari al museo Davia Bargellini di Bologna fino al primo marzo 2020 grazie a tutti grazie a tutti